Grande successo di pubblico per il 45esimo congresso nazionale dell'AIS che si è tenuto a Lecce in questi giorni. Per l'assessore Dario Stefano è un punto di partenza per promuovere sempre meglio il nostro vino. 11.000 bottiglie di vino pugliese impiegate per raccontare il fascino enogastronomico di un territorio sempre più a suo agio, nei panni di capitale mondiale del mangiare bene e bere meglio. Il 45esimo congresso nazionale dell'Associazione Italiana Sommeliesi è concluso ieri al risorgimento Resort di Lecce. Non solo un evento di celebrazione e di aggregazione per gli iscritti all'AIS, ma anche e soprattutto una straordinaria occasione di promozione del territorio regionale e di diffusione della cultura vitivinicola. Visto che tutti i sommelier presenti al congresso, 600 persone tra pugliesi, italiani e stranieri hanno degustato per 4 giorni esclusivamente vino pugliese. Un esperimento doppiamente riuscito, visto che tra l'altro mai l'AIS prima di questa Kermes Leccese aveva aperto i suoi appuntamenti istituzionali ai semplici appassionati del buon bere. Il congresso si è chiuso con grande successo, ma è stato solo un punto di partenza e non di arrivo, come spiega l'assessore delle risorse agroalimentari Dario Stefano. A dire ancora del successo dell'iniziativa sono i numeri, cifre più che lusinghiere. Infatti hanno registrato le due serate evento aperte agli enofili. Charmin Rosa, venerdì sera a Torre del Parco, ha visto la presenza di 85 etichette di rosati, con 1500 bottiglie aperte in tutta la serata e 1200 partecipanti tra sommelier e semplici visitatori. Ancora più rilevanti le cifre della seconda serata evento, quella al chiostro dei Domenicani, tipico e divino percorso Puglia, 110 le etichette presenti tra rossi e bianchi di Puglia, per un totale di 2000 bottiglie stappate, un numero ancora più consistente di visitatori.